Un argomento molto sensibile, se vogliamo, proprio in virtù degli ultimi accadimenti, però che non deve essere mai messo da parte, anzi. Anzi, proprio per questo abbiamo chiesto ufficialmente, attraverso un'interrogazione scritta, la situazione del piano di emergenza del nostro comune, del comune di Fano, visto anche appunto gli ultimi accadimenti. Stranamente l'assessore si è scagliato contro di lui in modo anche molto forte, secondo noi è del tutto ingiustificato, anche perché noi stiamo svolgendo un ruolo istituzionale, quindi chiedere attraverso un'interrogazione le informazioni ci sembra del tutto normale. Ma andiamo nel merito, forse si è stizzito l'assessore perché purtroppo nel comune di Fano il piano di emergenza comunale risale al 2008 e non è stato mai aggiornato. Oltretutto l'assessore dice anche una bugia perché dice che appunto è stato sicuramente attuato dal 2008 tenendo conto delle ultime normative in materia. Assolutamente falso perché già nel 2011 era uscita una legge nazionale che obbligava i comuni a rendere più attuale questo piano e ad aggiornarlo e anche addirittura nel 2015 una legge regionale molto quindi recente ha di nuovo messo dei paletti per far sì che questi piani comunali siano ben più precisi di quelli che noi abbiamo. Per fare solo degli esempi, ad esempio nel nostro piano di emergenza è ancora compresa la frazione di Marotta oppure il centro operativo comunale è nella cartina messo in un punto dove oggi non è più. C'è anche una conoscenza del territorio abbastanza frammentaria perché addirittura tra i punti di raccolta e di primo soccorso vengono messi degli alberghi e alcuni di essi non sono più presenti nel nostro territorio. Quindi ecco vedete che in realtà il nostro piano di emergenza comunale c'è ma non è assolutamente aggiornato come invece aveva affermato il nostro assessorato.